Gli ultimi tragici avvenimenti ripropongono il problema del disagio giovanile che porta spesso a tragici eventi, come è accaduto nelle ultime ore anche nella nostra regione. Professore, che cosa si può fare per evitare quello che è accaduto anche nelle ultime ore, ma perché si verificano sempre più questi episodi tragici tra i giovani? Beh, allora, cominciamo un po' dall'inizio. Intanto sì, effettivamente è uno dei fenomeni più rappresentati tra i giovani, costituendo la seconda causa di morte tra tutti i giovani in tutto il mondo. In alcune nazioni anche la prima causa di morte, e questo va da sé che è un elemento decisamente molto molto grave, se si pensa a giovani di 10, 11, fino ad arrivare a 18, 19, 20 anni che si tolgono la vita. Naturalmente l'azione principale è quella di prevenire questi infausti, esiti di un disturbo psichico, perché alla base c'è sempre un disturbo psichico. Nel 95% dei casi la persona che ha tentato che si è suicidata aveva un disturbo psichiatrico o psichico più in generale, e il 50% delle persone che si tolgono la vita il mese prima si sono rivolte ad un medico, non necessariamente psichiatra, ma comunque ad un medico, per manifestare il proprio disagio. Quindi è evidente già da questi dati che sicuramente si può fare molto. Gli adolescenti sono una categoria decisamente molto molto a parte e si può considerare, al pari di altre categorie, come dei cosiddetti gruppi a rischio, nei confronti dei quali vanno adottate delle misure di prevenzione assolutamente efficaci. L'elemento scatenante nel 98% dei casi di suicidi di adolescenti è la disperazione, cioè ci sono dei sentimenti così cupi, così chiusi, così assolutamente inalienabili, per cui l'adolescente non trova un'alternativa al dolore che sta in quel momento sperimentando. Per cui quando c'è questo elemento di disperazione, che si percepisce, ovviamente con strumenti adeguati e con personale formato ad hoc, una volta individuati gli elementi, segni di rischio, si può sicuramente intervenire. La prevenzione deve assolutamente partire dalle scuole, che è il luogo privilegiato per antonomasia, dove gli studenti passano la maggior parte del loro tempo, dove creano gruppi, dove da ragazzini diventano adulti e così via. Un programma in particolare è stato adottato da una scuola qui a Pescara, che è l'istituto alberghiero, dove da qualche anno questo programma di prevenzione va avanti e ha avuto i suoi risultati naturalmente.